Io veramente ad un certo punto sbrocco ed è arrivato il momento di sbroccare perché determinati personaggi la devono finire di mettere in mezzo il Milan per riabilitare la loro immagine. Allora partiamo dall'inizio. Mirabelli è ormai da qualche settimana che si sta facendo il giro delle televisioni private, prima è andato a 7 Gold, poi è andato da Criscitiello, poi è andato da Ravezzani e sostanzialmente che cosa fa? Va in giro a difendere quello che ha fatto con argomenti estremamente validi del tipo Ho aumentato il valore della rosa del Milan. Grazie al cazzo perché spendendo 240 milioni è un po' difficile abbassare il valore della rosa del Milan, credo. Poi ovviamente lui la butta tutta sulle plusvalenze, abbiamo comprato dei prospetti futuribili, bla bla bla. Allora io non voglio fare il ridicolo, io ero uno di quelli che il mercato di Mirabelli lo difendeva all'inizio, però poi il campo ha parlato, il campo ha detto che con 230 milioni siamo arrivati i sesti e di quella squadra lì nel Milan del futuro, il Milan del fondo Illiot, ce ne saranno uno al massimo due dei famosi 11 acquisti di Mirabelli. Quindi ragazzi di cosa stiamo parlando? Del nulla. Poi tralasciando, tralasciando no? Avevo preso Cristiano Ronaldo, ora, ora, no? Avevo preso Cristiano Ronaldo con il fondo Illiot posso garantire che Cristiano Ronaldo sarebbe un nuovo calciatore del Milan. E' un po' come se io andassi al concessionario Ferrari, no? Ordinassi una Ferrari e dicessi ma scusi posso comprare quella Ferrari lì? Sì, e quanto costa? Un milione. Ascolti, io un milione non ce l'ho, però se fossi stato il figlio di Rockefeller quella Ferrari era mia. Cioè è lo stesso ragionamento, è lo stesso cazzo di ragionamento. Poi ovviamente ti va a dire le perle del tipo io avevo preso Aubameyang, anzi a Bumayang, e Montella ha bloccato tutto perché voleva Kalinic. Allora, e ovviamente che cosa succede? No, arriva l'altra parte perché poi anche Montella ha fatto un'intervista a Sky. Tutti insieme arrivano, no? Tutti insieme, proprio nello stesso periodo fanno tutti le stesse interviste, chissà perché. E Montella difende chiaramente il suo operato attaccando Gattuso, dicendo che Gattuso ha sbagliato a criticare la mia preparazione e il modo in cui io ho allenato la squadra. Poi, ovviamente lui ci butta in mezzo altri nomi perché ha detto io, c'è, stavamo per prendere Morata, stavamo per prendere Bazzuai. Allora. Mirabelli ha fatto un mercato palesemente in disaccordo con Montella perché quella non era una squadra studiata per il calcio di Vincenzo Montella. Però, caro Montella, io fino ad un certo punto posso anche volerti bene perché per sei mesi ci hai fatto tutto sommato divertire, ci hai fatto vincere una Supercoppa italiana. Il problema è che dopo quei sei mesi hai campato di rendita letteralmente sulla finale di Doha, collezionando figure di merda una appresso all'altra. Poi è arrivato Fassone, è arrivato Mirabelli, il tuo Milan è colato a picco, a picco, proprio è crollato come un castello di carte, sei andato a Siviglia e anche lì hai preso Piselli in faccia. Quindi potete benissimo capire che qualche problema nel modo in cui alleni i tuoi giocatori probabilmente c'è. Perché se vai alla Sampdoria, fai sei mesi, flop. Vai al Milan, fai sei mesi buoni e poi per un anno, flop. Vai al Siviglia e poi ancora, flop. Qualche domanda, caro Montella, inizia a fartela anche tu. E non puoi andare a dire a Gattuso, eh, lui ha sbagliato, lui ha sbagliato. Cioè ragazzi, io ho criticato fino allo sfinimento che Gattuso qui dentro. Non mi fa impazzire per le scelte che fa, non mi fa impazzire per il gioco che ti propone, ma Gattuso l'anno scorso ha preso una squadra a pezzi, a pezzi. Quindi, ragazzi miei, volete rifarvi un nome per trovare un nuovo lavoro? Volete redimervi agli occhi della gente? Va benissimo, ma lasciate fuori il Milan. Lasciate fuori il Milan, fatevi un'altra vita. Siete una pagina nera della nostra storia, più Mirabelli che Montella. Però, basta, ve lo dico con il cuore, basta! State diventando stucchevoli e anche un po' patetici. Porca miseria, cioè quello là a momenti va pure alla CNN, tutte le aggirate. Sette Gold e Tele Lombardia e Crescitiello. Domani arriviamo e lo ritroviamo a Tele Subalpina, c'è poi ad Antenna Sicilia, se le gira tutte. Montella che è noia, Kalinic, a me piaceva Kalinic, bla bla bla. E si scaricano le colpe un po', tanto per dimostrare che il Milan è sempre dolce di merda, o solo per uno o solo per l'altro. Ragazzi, stiamo per entrare in una nuova fase della nostra storia. e ormai purtroppo a determinati personaggi è rimasta solo la chiacchiera. Ci vediamo e forza Milan, sempre!